Il format tv è incrementato sui disturbi e sui nuovi disagi che stanno consumando le nuove generazioni. Sin qui abbiamo trattato le tematiche inerenti al bullismo e alle varie dipendenze con esperti di settore. Quest'oggi invece andremo ad intraprendere un'altra strada, forse quella primaria. Monitoreremo lo sviluppo dei nostri ragazzi sino a età adolescenziali e parliamo soprattutto del loro benessere per poi evitare di cadere, di incombere su questi disagi. Per commentare questa parte di viaggio siamo andati a trovare il dottor Giovanni Poggini. Buonasera, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Il dottor Giovanni Poggini è pediatra di famiglia e grande appassionato di volontariato, giusto? Sì, sì. Anche l'altro giorno è arrivata, una grande onoreficienza è arrivata. Sì, sì, ma non riusciamo, insomma, va bene. Nell'Unicef ha un ruolo di contributo anche a un certo livello che vedrò di servire adeguatamente. Io inizierei a parlare già delle tematiche. Cosa si deve fare con un ragazzo a partire da adolescenza o anche prima a Monte per evitare appunto che quest'oggi, che i vari disturbi che appunto quest'oggi abbiamo trattato e tratteremo, rilegati sia a disturbi di alimentazione che a disturbi psicofisici, possano in qualche modo delineare la sua crescita? Sì, ecco, vorrei con voi condividere questa considerazione. Non parliamo di malattie, parliamo di benessere. Parliamo di benessere e quindi parliamo di come costruire il benessere che ha implicito il prevenire le malattie. Il momento fondamentale nella vita di una persona sono i primi mille giorni di vita, ma considerando in questi primi mille giorni di vita anche il periodo in cui il bambino è nella pancia della mamma e vorrei dire, forse quando è nell'idea dei genitori, cioè è la famiglia, il luogo dove si costruisce il benessere futuro del bambino. Ma questa famiglia che strumenti ha? Questi strumenti vanno forniti alla famiglia. La famiglia ha diritto di conoscere quali sono le buone pratiche utili per una sana crescita del bambino. Perché agendo in questa fase e quindi dando all'individuo gli strumenti del benessere, cioè del cercare ciò che è sano, ciò che fa star bene, è implicito. Vederlo lontano dall'alcol, dalle dipendenze, dalle dipendenze anche dai video, da tutto ciò che rende il cervello passivo, non creativo. Rende il cervello oggetto di un piacere artificiale. Che poi diciamo è anche difficile riuscire a, in un momento in cui le tecnologie comunque avanzano, riuscire a distoglierlo anche da... Sì, allora, se riusciamo a fornire alla famiglia, e poi approfondiremo quali buone pratiche, porteremo a qualche esempio, fornire alla famiglia proprio i mezzi per crescere in maniera potenzialmente creativa. Questo cervellino, i mezzi li utilizzerà ma in maniera produttiva. Come stiamo facendo noi che usiamo la televisione, il web, nulla va demonizzato. Allora, quali sono questi mezzi? Vi porto qualche esempio. Abbiamo parlato di una donna incinta. Allora, pensate, se noi ad una mamma è stato interessante, forniamo della musica, o la incoraggiamo a cantare le vecchie ninne nanne al proprio bambino, già questo apporta uno stimolo alle emozioni positive di questo cervellino. Cioè, si abitua a armonizzarsi con i rumori belli del mondo. Allora, sembrano delle cose artificiali, in realtà sono sostanziali, scientificamente dimostrate, e non vengono tante diffuse perché non c'è business, non costa nulla. Cioè, dire a una mamma che è importante che elabori la ninna nanna per il proprio bambino, dice, ma che sarà? Invece è importante. È importante perché queste due persone, in relazione l'una con l'altra, si armonizzano e iniziano a stabilire quell'attaccamento sano che diventa la base sicura su cui piantare saldamente i piedi quando la vita ti porterà alle difficoltà. Ma, altrimenti, se non hai il piacere del benessere, se non conosci le cose positive, quando arrivi alla crisi adolescenziale, lì ti aspetta ciò che ti seda, le ansie del momento, le frustrazioni, la fatica della crescita, e poi soggetto ad un terribile mercato, insomma. Quindi è nella famiglia che con mezzi semplici iniziamo a costruire quello che saranno gli strumenti di benessere dell'adulto, dell'adolescente. Come fa la famiglia a riuscire anche, diciamo, in solitaria, o grazie proprio anche pediatra, a trovare poi questi mezzi per riuscire? Perché non è un percorso, immagino che non sia un percorso semplice e lineare. Ma vi do come anche la nostra comunità si sta attivando. Abbiamo parlato di Nati per la musica, ma c'è un altro progetto, Nati per leggere, che prevede la lettura condivisa del genitore con il bambino da sei mesi in poi. Non è che il bambino legge la Divina Commedia, no. Ci sono dei libri appositi che permettono al genitore di condividere delle immagini e delle parole con il proprio bambino, in questo caso creando una alfabetizzazione del linguaggio, laddove con Nati per la musica si crea un'alfabetizzazione delle emozioni. La nostra biblioteca è attore, principe proprio di questo progetto nati per leggere, al quale collaborano anche i pediatri e buona parte della comunità. Alfabetizzare il linguaggio, alfabetizzare le emozioni, il cibo, un altro elemento importantissimo. Esatto. È importante che la famiglia mangi in maniera sana, perché il bambino com'è che apprende il neonato, il piccolo infante dall'adulto? Apprende guardando l'adulto come un modello. Imitandolo. Imitandolo, ma ci sono per l'appunto nel cervello dei neuroni, chiamati neuroni a specchio, che registrano quello che fa il genitore. Allora il genitore che mangia in maniera sana, poi come si avvicina il bambino a sei mesi, il bambino inizia a condividere questo pasto e qui c'è un'alfabetizzazione del gusto. Capite quanto è importante questo? Noi che vediamo i nostri adolescenti in questi fast food, mangiare alimenti che poi diciamo a farli male alla salute, quindi li esponiamo a un qualcosa che poi andiamo a dirgli guarda ti fa male e poi a 40-50 anni ci troviamo cardiopatici, diabetici, tumori eccetera. L'alimentazione influisce anche sull'umore comunque del… L'alimentazione, noi siamo alimentazione, noi siamo quello che mangiamo. Cioè oggi ci sono delle conoscenze nella relazione fra il nostro organismo e il cibo che sono entusiasmanti. Se uno va, porto un esempio, i cavoli si dice che fanno bene. Ecco se uno va a studiare qual è il meccanismo chimico di come il cavolo protegge l'organismo dai tumori, ci entusiasmiamo, poi anche direi nasce un disagio dal fatto che le persone non sappiano queste cose semplici. Allora, la famiglia educata, vedete, educare la famiglia, dare i mezzi alla famiglia e stare a fianco di questi giovani che sono spesso da soli, le donne spesso sono da soli a portare avanti un'impresa complicatissima, come tirare su un bambino. La comunità deve essere a fianco, deve essere educante, deve fornire questi strumenti, questa cultura. E allora, lì prepariamo, io porto sempre questa idea, nel neonato che mi arriva in ambulatorio devo vedere il felice novantenne del futuro. Quando avrà novant'anni, se lui ha gli strumenti per stare bene al mondo, molti di questi strumenti si costruiscono nei primi mille giorni di vita. Il disagio dei nostri adolescenti è una misura oggettiva che non stiamo facendo quello che è corretto. Quindi siamo di fronte a un problema importante. Avendo anche gli strumenti per affrontarlo, non mettiamo le famiglie in condizione di avere questi strumenti per prendersi cura dei propri figli, per semplice ignoranza. Quindi possiamo dare, diciamo, un po' la colpa, tra virgolette, se consigliamo chiamarla, anche alla società di oggi. La responsabilità della comunità, perché dopo è la famiglia la responsabile, ma questa famiglia deve avere una comunità che la educa. Io non posso pretendere che un giovane come te gli nasce un bambino e esperto. Un tempo erano relativamente esperti, relativamente a quel tipo di società semplice. Molte mamme mi dicono che il primo bambino che hanno visto è quello che hanno fra le mani. Un tempo le famiglie, io non voglio ora sottolineare che una volta si stava meglio, assolutamente no. Però erano più agevolate le donne, erano meno sole. Avevano visto come si faceva con i bambini. Oggi le abbandoniamo a se stesse spesso, a se stesse. Con la scusa, tanto stai bene. No, perché le cose sono complesse. Quindi io sono ben contento di collaborare a questa vostra iniziativa, è perché o creiamo una comunità, che veramente è educante e consapevole, e si assume la propria responsabilità. Perché i bambini sono un bene comune, gli adolescenti sono un bene comune. Dopo la famiglia l'attore principale. La società che sta intorno deve essere di sostegno, di aiuto e di educazione alla famiglia. Io ringrazio Tor Poggini. Adesso andiamo un attimo in pubblicità. Nella seconda parte riprenderemo sull'importanza che ha il pediatra poi sulla famiglia e sull'adolescente. A tra poco. Seconda parte di Vivere. Insieme ci ritroviamo con il dottor Giovanni Poggini. Abbiamo parlato nella prima parte di quanto la famiglia sia importante per la crescita del ragazzo e delle nuove generazioni. Però vorrei approfondire di più adesso la figura da pediatra, perché secondo me nei primi anni di vita dell'individuo è una figura, una linea guida anche per la famiglia. Indubbiamente. In Italia abbiamo la fortuna di avere questa figura del pediatra di famiglia. Figura di riferimento al quale la famiglia si può rivolgere e con la quale è assolutamente importante che collabori fin dall'inizio. Ecco, che non lo veda come una figura alla quale ci si rivolge quando il bambino ha la febbre. No. Ci sono dei momenti significativi, i bilanci di salute, i bilanci di crescita, come li chiamano, i controlli, come li chiamano, dove si possono proprio condividere le proprie difficoltà, richiedere le informazioni, le buone pratiche, quello di cui abbiamo parlato prima. Quindi, altra figura importante che non vorrei sottovalutare è anche il medico di famiglia al quale la mamma si deve rivolgere per i propri disagi, cioè bisogna che la famiglia permetta la cuscitura intorno a se stessa di un sistema che le permetta di promuovere la salute del bambino a tutti i livelli. Quindi anche di prevenire, di andare a prevenire poi quello che... Allora, io il concetto di prevenzione fa ricomparire sempre quest'ombra della malattia. Quello che piace molto a me è promuovere la salute, promuovere il benessere, perché vorrei ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando definisce la salute, non dice assenza di malattia, dice ma stato di pieno benessere fisico, psichico, sociale e aggiungerei ambientale, perché anche il problema dell'ambiente, e su questo il contributo della comunità è sensibile, è importantissimo per lo sviluppo del bambino, perché quel novantenne felice che vedremo fra 90 anni, per le premesse che ci sono, insomma, è molto difficile, è l'inquinamento, e la diminuita resistenza agli antibiotici, all'aumentata resistenza, per quale motivo? Se c'è una buona collaborazione fra il pediatra, il medico e la famiglia, anche l'abuso di farmaci diminuisce. Se noi creiamo una cultura di come ci prendiamo cura di un bambino ammalato, l'uso dell'antibiotico serve solo in quei casi specifici, in questo modo noi evitiamo che il bambino in futuro sia quell'adulto che nel 2050 rischia una polmonite da batterio resistente, ci può anche morire, perché resistente agli antibiotici vuol dire incurabile. Vedete come l'oggi costruisce al domani? Parlavamo del disagio adolescenziale, ma il buon lavoro nei primi anni di vita del bambino non riguarda solo quello che sarà come adolescente, ma significativo un po' per tutta la sua vita. Quindi è importante questa collaborazione della famiglia con il pediatra, il medico di famiglia, proprio attivando queste figure che sono lì ad aspettare per fare un lavoro costruttivo, da soddisfazione anche a me, questo è il mio lavoro. E questa rete fra medico di famiglia, pediatra e la famiglia stessa, può durare anche nel tempo successivamente all'età in cui il ragazzo poi viene seguito solo da medico di famiglia? Il medico di famiglia rimane una figura centrale, stabile. Ecco, l'adolescenza. L'adolescenza è una zona di transizione dove purtroppo il pediatra di famiglia, dico purtroppo a 14 anni, deve lasciare il proprio assistito, entra in carico a un medico di famiglia che spesso, specie nei nostri tempi, è sovraccarico di un lavoro legato all'invecchiamento della nostra popolazione. Quindi ci vorrebbe, ecco, questo sì, di trovare il modo di collaborare, le nostre due figure per creare una condivisione di supporto, per dare supporto proprio al disagio giovanile, perché i nostri adolescenti effettivamente si trovano spesso soli. Ecco. È vero. Quale fascia di età a livello pediatrico? Comunque arrivando fino a 14 anni si arriva fino all'inizio dell'adolescenza. Ad oggi si è più a rischio di mancanza di benessere tra i nostri giovani. Allora, il rischio di mancanza di benessere interessa soprattutto proprio la fase adolescenziale. Quindi quando si inizia a entrare sui 12, 13 anni. Sì, anche perché è una fase complessa, anche perché, lo vorrei dire altavoce, purtroppo il disagio giovanile innesca anche di business. Se si pensa al dramma della droga, se si pensa anche all'abuso di mezzi mediatici, se si pensa all'alcol. Si capisce come lasciare da sola questa figura in questo momento, non aver ben promosso un benessere prima, o non aver aiutato la famiglia ad avere gli strumenti per poter gestire la relazione con il figlio. Questo si impara già nelle prime fasi. Vi porto un esempio pratico. Intorno, il bambino, dal primo anno a un po', diciamo, da 18 mesi, 2 anni e su, ha un periodo in cui attiva dei sistemi ricatto formidabili, bizze. E lì il genitore è in difficoltà. Ecco, lì il genitore va aiutato, in termini correttamente psicopedagogici, a prendersi cura, a gestire, a educare, a limitare, a dire no a quel bambino. Altrimenti quel bambino dopo vivrà tutto il disagio di non avere limiti. E inizia a trovarsi in disagio a scuola. E uno che, senza l'idea del limite, arriva in un momento delicato di trasformazione. Come l'adolescenza, è comprensibile come tanti guai stiano aumentando. I famosi no che aiutano a crescere. Sì, c'è un po' la leggenda metropolitana, che poi tanto leggenda forse non è che i no di una volta funzionavano meglio di oggi. Allora, i no di una volta, se per no di una volta si intende la famosa uno schiaffo non ha mai ucciso nessuno, è sbagliatissimo. Anche perché il bambino, abbiamo detto prima, vede il modello genitoriale. Ebbene, un genitore che picchia attesta e legittima la violenza e poi attesta la propria debolezza. Il genitore va aiutato a esprimere una autorità, autorevole, non autoritaria, non che si avvale di mezzi repressivi, ma che si avvale per l'appunto di una legalità familiare. Cioè, queste sono le regole e queste sono regole condivise, è importantissimo che in questo momento non ci siano nella famiglia più voci, più emittenti. Ci vuole un emittente sola, che tutti facciano lo stesso discorso e che abbia la famiglia la consapevolezza del valore dell'educazione. perché abbiamo parlato della mia partecipazione nel volontariato Unicef. Ebbene, la Convenzione sui diritti dei bambini non dice che il bambino ha diritto di crescere facendo quello che vuole. Lì le daremo un suo diritto. Il bambino ha diritto a essere educato, quindi a conoscere quali sono i limiti, quali sono i no, perché è solo nei limiti che potrai in un secondo tempo esprimere i propri talenti. Altrimenti sarà il caos. Il caos crea confusione, arriva l'adolescenza, l'adolescenza si perde e dopo il disagio, la sofferenza dell'aver perso la bussola ti fa prodare facilmente all'uso di sostanze o a atti di violenza o di bullismo. Ma poi influisce anche mentalmente sull'individuo. È semplice. Non alla creatività del benessere, ma all'espressione del malessere. Vedi come sono semplici le cose. Quindi aiutiamo le famiglie nella prima fase della vita. Non le lasciamo da sole, diamogli gli strumenti, aiutiamo le donne che stanno crescendo, i figli. In chiusura, noi lasciamo sempre un messaggio a chi probabilmente ha bisogno più che altro di questi consigli. Cosa si interviene a una famiglia che quest'oggi vive questa problematica? Allora, la famiglia dell'adolescente, di non scoraggiarsi. Poi gli strumenti ci sono e vorrei dare speranza. Alle giovani gli strumenti ci sono per affrontare il disagio. Ai giovani non perdete tempo. Gli strumenti ci sono per promuovere il benessere. Li abbiamo un po' nominati. Se volete in futuro ci potremo soffermare in maniera più dettagliata proprio su queste buone pratiche. E con questo messaggio finale io ringrazio aver partecipato a vivere alla quarta puntata una trasmissione che vuol creare vuol cercare di portare le famiglie aretine in questo caso una nuova cultura un nuovo senso di protezione anche grazie agli esperti del settore. Noi ci vedremo settimana prossima con una nuova puntata e adesso vi lasciamo i prossimi appuntamenti di Arezzo TV. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.